Bracconieri del mare li chiamano, pescatori da diporto, cioè che senza controllo farebbero il bello e cattivo tempo nelle acque di Margherita di Savoia. E quel che peggio vendendo il pesce a prezzi stracciati, provocando un danno enorme a chi in mare ci vive e lavora. Ci tolgono il mangiare a noi, ci tolgono i pesci a noi. Non è possibile che loro alla fonte, dove i pesci si stanno ripopolando, e loro vanno depredando tutta la zona. Cioè da mattina, pomeriggio, sera, è sempre un continuo, specialmente nei weekend, venerdì, sabato e domenica, ci sono oltre 100 motoscavi, ognuno di loro depredono tutta la zona, la zona del ripopolamento di tutti i pesci. Le cooperative dei pescatori di Margherita hanno proclamato lo stato di agitazione, chiedono maggiori controlli, un'azione incisiva contro una pratica che definiscono illegale e che danneggia l'ecosistema marino. E vogliamo una zona di ripopolamento, specialmente tra i due moli, con una linea a longitudine di 900 metri, fino a 1,5 mila a foce quarto. Là è tutta scogliera, vogliamo che i pesci si ripopolano, perché i pesci devono venire fino ai 3 mila dove veniamo noi, perché devono avere la possibilità di crescere, di ripopolarsi e di venersi a trovare a noi a 3 mila, 3 mila e mezza, 4 mila. Il danno è moltissimo, perché se mi guadagna poco, le spese sono quelle che sono, a fine d'anno siamo sempre a meno.